buongiorno a te benvenuto questo video siamo il 22 22 giugno 2024 siamo in piena estate ed fa caldissimo vero sì ci sono quelli che piacciono ai quali piace scrivere nei giornali e bagianate chissà chi è chi li paga da quale mondo vengono fuori allertavano per un'estate una grande canicola nei prossimi giorni e di fatti dopo qualche giorno è arrivata la pioggia e di nuova temperatura è scesa bene queste sono le situazioni meteorologiche di questo periodo dove vabbè talmente sparano sciichimi che irrorano il cielo con sostanze pesanti metalli pesanti è facile vedere come cambia il tempo perché lo fanno sicuramente per farti star male e dunque tu e tu allora quel punto fai di tutto per stare bene se il sistema vuole che tu stai male tu farai di tutto per stare bene se il sistema gli dice mangia quella cosa lì tu mangerai quell'altra cosa ok se si dicono fai così fai il vaccino tu cosa farai tu farei cosa non farai il vaccino se gli dicono compra quei vestiti che sono buoni tu comprerai quegli altri è facile alla fine basta fare il contrario di quello che dicono i mass media quello che dicono i licenziati medici e poi vai a cercarti quelle per le rare quelli scienziati autentici integri quei dottori quei specialisti di benessere e di salute che escono dal lotto dal fiore di lotto e ti fanno vincere segui anche tu la tua strada segui la tua di strada si originale si positivo ci sono delle cose che puoi fare subito allora fate ognuno di noi sa dentro di sé molto bene quello che deve ancora ripulire quello che deve ancora comprendere lasciar andare e trasmutare come ognuno sa molto bene quello che può fare per stare meglio vedesi alimentazioni dipendenze cibo movimento salute massaggi docce amicizie io ho detto queste parole oggi sicuramente oggi è una giornata un po di transizione ci vediamo ancora domani dopo domani sicuramente molto carichi di cose belle e molto leggeri di cose che saranno e che sono un abbraccio ciao AUG